Aspettavo quel momento da tutta la vita. Il momento in cui tutto comincia ad avere un senso. C'è un camion fermo senza benzina in città, trasporta roba che serve alla band stasera e tu me la devi riportare, ok? Sai che cosa fare? Un'altra sera, un altro concerto. Faccio quello che mi dicono. Vado dove mi mandano. Ma certe volte il momento che cambia tutto è quello che non avevi previsto. Vado dove mi mandano. 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 Vado dove mi mandano.